Sono più di 2.000 le richesse di buoni spese arrivate al comune di Sciacca. 1.400 sono state inoltrate tramite WhatsApp e 800 tramite gli indirizzi di posta elettronica forniti dall'amministrazione. Gli uffici sono al lavoro per l'esame delle stanze. Probabilmente c'è chi ha inoltrato la richiesta con entrambe le procedure consentite, per cui il numero complessivo dei richiedenti potrebbe essere inferiore a 2.200, ma stiamo parlando di numeri che comunque testimoniano la condizione di grave difficoltà in cui versano molte famiglie saccensi. 200 richieste sono state già esitate e la consegna dei buoni spesa partirà nelle prossime ore. È stato infatti definito anche l'elenco delle attività, supermercati, negozi di genere alimentario, farmacie, presso le quali i buoni potranno essere utilizzati. Sono 39 le disponibilità pervenute alla scadenza dell'avviso pubblicato dal Comune di Sciacca e rivolto ai titolari delle attività commerciali e delle farmacie. Ciascun buono ha il valore nominale di 20 euro, ma l'importo complessivo varia a seconda dei componenti del nucleo familiare. La consegna dei buoni verrà fatta a domicilio dei richiedenti dai volontari della protezione civile. Continua intanto la gara di solidarietà a Sciacca e in tanti stanno partecipando alla raccolta fondi ed altre iniziative, cittadini, associazioni, imprese. Oggi l'amministrazione comunale segnale il gesto corale di diverse attività commerciali che in aggiunta ai supermercati hanno voluto dare il proprio generoso contributo in questo momento difficile di sofferenza. Attività che stanno donando pasti caldi alle persone in difficoltà segnalate dal settore affari sociali e che continueranno a farlo fino alla conclusione dell'emergenza. La distribuzione è svolta dai volontari della protezione civile. In particolare, come avevamo evidenziato già ieri, il Bar Capital, Pollo Doc, Panificio Pane Doc, le pizzerie in pausa e Buenos Aires hanno donato 50 pasti settimanali per i volontari della protezione civile di Sciacca che li hanno devoluti ai nuclei familiari in difficoltà segnalati dagli affari sociali. L'amministrazione comunale ha voluto esprimere gratitudine a quanti si stanno rendendo protagonisti di questa gara di solidarietà. A Ribera sono 850 le richieste pervenute ad oggi agli uffici politiche e sociali del Comune. La Commissione, composta dagli assistenti sociali, ha finora esitato e accolto 337 richieste. I relativi buoni spesa sono già in consegna a domicilio presso le famiglie richiedenti da mercoledì scorso e continueranno anche nella giornata di oggi e di domani. Il Sindaco Pace ha ringraziato i volontari della protezione civile comunale che stanno svolgendo anche questo servizio.